Stacco con la rottura di Larice Jet, Marenna stanza all'attacco di Limpiao Stroke, all'auto veloce anche l'Uvro, poi nessun altivore GF, Guttuso, intanto la rottura di Limpiao Stroke... Numero 1 Limpiao Stroke squalificato. A posto per accorarsi, Limpiao finisce squalificato, Larice è lontanissimo, ormai fa ricorso, arrivano in 5 con Marenna stanza in vantaggio sul Uvro. Poi il National PRGF, quindi Guttuso e Nicholson Trebbe, passaggio ai 400, molto veloce, 29 scarso, ora fa il completamento dei primi 600 metri in 44. Sposta Guttuso, c'è l'ingresso del passaggio di fronte alle tribune, va ad incalzare National PRGF, Marenna stanza, piano ritmo, abbastanza selettivo, c'è un primo giro in 58 spiccioli, direi molto selettivo. E l'ultima curva, Marenna, Louvre, National, Guttuso, Cialalgo, seguito da Nicholson Trebbe, il primo chilometro di Marenna sul piano è l'1, 13 e mezzo. Sulla retta a posta alle tribune, Marenna fans, Louvre, Guttuso, Cialalgo che cerca di incalzare Louvre. Poi il National e Nicholson Trebbe, retta a posta in 14 e 1, Marenna fans al comando, poi Louvre, Guttuso, si affaccia in terca Nicholson Trebbe, Marenna che ha due di vantaggio sull'Uvre. all'ingresso della retta di Erivo, all'Auto Guttuso, a centropista scatta Nicholson Trebbe, retta a di Erivo con Marenna fans in vantaggio, sull'Uvre, Marenna e Nicholson, Marenna fans vince Nicolò.